Antonio Mura, 51 anni, uno dei due titolari del City Conad nel quartiere del Vallato, è stato trovato privo di vita da un collega poco prima delle 8 di questa mattina accanto ad alcuni bancari di verdura che lui stesso stava sistemando nel suo supermercato. Lo hanno trovato così, riverso a terra dove si è accasciato, anche i soccoritori del 118, subito alertati dai colleghi che nulla hanno potuto fare a loro arrivo se non costatanne la morte. Al supermercato sono arrivati questa mattina anche gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Simone Pineschi e gli uomini della scientifica che hanno eseguito i rilievi di prassi in questi casi. Il supermercato è rimasto chiuso per tutta la mattinata fino alle 15 di oggi pomeriggio. Il magistrato per appurare le cause del decesso ha disposto all'autopsia anche se si protende per una morte per cause naturali, forse un problema cardiaco.